Oggi siamo nella zona di accesso della palestra della Corner Arena, dove c'è Work Hard, Play Harder. Lavoro è duro e gioca ancora più duro. Il nuovo slogan fuori dalla palestra. Si sposa bene con Lassi Laxo, che è la sua ottava stagione come responsabile della preparazione Off-Eyes della prima squadra. Lassi, riassumici un po' come è stata la scorsa stagione in cui si è giocato davvero tanto. L'anno scorso abbiamo giocato come gli anni precedenti. Quello che era diverso era sicuramente l'incertezza intorno al calendario per un lungo tempo. Per noi ha influito fino a fine dicembre. Abbiamo avuto un calendario molto denso dopo Natale per recuperare. Penso che appunto il punto centrale, che era diverso per noi, era questo doversi adattare continuamente a dove potevamo allenarci, in che circostanze. E poi essere pronti quando poi ci veniva detto di giocare le partite. Anche se Lugano ha perso nei quarti di finale del play-off, è comunque rimasto sul ghiaccio con partite fino a metà aprile. Quasi rispetto alle altre stagioni, quasi come se si fosse andato fino alla finale del play-off. Quindi che impatto ha avuto questa cosa poi sulla preparazione atletica in vista della stagione 21-22? Sì, come hai detto, alla fine abbiamo giocato un campionato lungo, contando questi ultimi giorni. Abbiamo fatto sette settimane di preparazione estiva come gruppo, che rispetto ai nostri standard è piuttosto corto. E quindi ha un po' influito su quello, sull'approccio sicuramente rispetto all'anno scorso, dove è stato molto più lungo. Il vantaggio quest'anno è che eravamo di nuovo in pista, abbiamo avuto accesso alla Salapesi e a tutto il materiale per lavorare di nuovo un po' diversamente. Quindi durata un po' più corta dell'anno scorso, ma almeno in gruppo e sicuramente con una qualità di lavoro che era diversa in positivo. E c'è stato anche un altro elemento nuovo, quello che grazie alla collaborazione con la città di Lugano, la squadra ha potuto usufruire del ghiaccio della Corner Arena fino all'11 giugno. Quali sono stati i benefici o quali saranno i benefici che i giocatori hanno potuto o potranno avere per questo cambiamento? Penso che oggi per me è difficile rispondere a quali saranno i benefici. Noi abbiamo impostato un calendario dove i giocatori andavano due volte a settimana sul ghiaccio con Luca Gianinazzi, che è il coach Uventi, e Flavian Conn, che è il skills coach per i club. E quindi abbiamo impostato sessioni mirate a una parte sviluppare qualità tecniche dei giocatori e poi comunque facendo un lavoro cardio sotto forma di gioco e di competizione sul ghiaccio. E poi c'era un terzo ghiaccio ancora a disposizione individualmente per i giocatori. Penso che sono cose che appunto sono difficili da quantificare a corto termine. La mia speranza è che questo aiuti a sviluppare a lungo termine un giocatore, a dare un po' di tempo per lavorare su dei aspetti che magari in stagione c'è un po' meno tempo, o semplicemente di impostare delle basi da poi portare in avanti durante il campionato. Sicuramente ai giocatori ha fatto piacere. Da parte mia ha voluto dire impostare il lavoro fuori ghiaccio un po' diversamente, visto che non possiamo sempre solo aggiungere sessioni. Alla fine, quando lavori 8-9 volte a settimana, devi poi decidere cosa fai. E abbiamo cercato appunto di avere una parte del lavoro cardio fatto sul ghiaccio. E direi che questo era sicuramente il cambiamento principale dovuto o legato al ghiaccio d'estate. Un'ultima domanda riguarda l'inizio della stagione agonistica. Si giocheranno le prime partite di Champions Hockey League già il 27 e il 29 agosto. Quindi anche questo aspetto non è del tutto nuovo, perché abbiamo già giocato anche in passato, ma in Europa, però ha un influsso questo sulla fase finale della preparazione. Quello sicuramente alla fine, cominciando a fine agosto, ci lascia tre settimane di preparazione sul ghiaccio. E quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare partite più intense e di qualità prima rispetto al solito. Quello che vorrei dire concretamente, ci sarà ancora da discutere con Chris e lo staff, e lo staff per esattamente come ci avvicineremo poi a fine mese. Per noi sappiamo semplicemente che bisognerà alleggerire un po' il lavoro off ice prima del solito per arrivare freschi e competitivi già a fine agosto.